Buon Natale anche agli sfigati che sono fuori mascherati a contestare. Noi siamo accoglienti con tutti, sono ragazzi che hanno bisogno di affetto, di comprensione, di vicinanza. Quindi auguriamo feste serene anche loro e speriamo che le loro famiglie li riaccolgano in casa. Come per la parabola del figlio al prodigo, anche se certi figlioli, piuttosto che averli in casa è meglio averli in strada, quindi li capisco.